e buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a vedere tre pulcini che sono nati in teoria erano sette uova ma se ne sono spiuse per la tre quindi adesso andiamo a vederli e buongiorno lui è il primo gli altri saranno sotto di sicuro perché ieri parli un altro comunque non sono nuovi tre gli ultimi allora qui gli ho messo la miscela per i pulcini piccoli qua c'è il misto della mamma questa qui è una sorta di protezione per evitare che entrino e anneghino nell'acqua e pulcini qua ed è una soddisfazione se la prima volta che cova naturalmente perché prima le facevo sempre con l'incubatrice perché l'anno scorso ho tentato di covare sempre lei però a metà covata basta mollato infatti anche quest'anno quando visto che stava covando ho detto vabbè proviamo ma non ero così fiducioso e invece alla fine ok adesso ogni due giorni farò un video così man mano crescono e vediamo crescere insieme ecco per aiutare il canale vi chiedo è una cosa gratuita non costa niente a voi ma a me giova molto mettete un like basta un commento anche un ciao condividete il video con i vostri amici vostre amiche così l'algoritmo di youtube mi fa crescere il canale e lo mette nelle prime visualizzazioni e niente detto questo metterò dei video ogni due giorni metterò un video per farvi vedere come stanno crescendo i nostri pulcini io intanto vi saluto e grazie mille ciao